Power Players, trasformati! Con i Power Bands di Power Players! Indossa i potentosi bracciali di Axel e preparati al contatto! Trasformazione! Trasformazione! Super Axel, il Sergente Charge, Barbaro Orso! Colleziona tutti i mitici personaggi di Power Players! Che forza! Power Players! E c'è anche la potente, velocissima moto di Axel! Power Players! Giochi preziosi! Grazie!